Lettera ai Romani Vi scrive Paolo, servo di Gesù Cristo Dio mi ha scelto e mi ha fatto apostolo perché io porti il suo messaggio di salvezza Dio, per mezzo dei suoi profeti, aveva già promesso questo messaggio di salvezza Esso riguarda il figlio di Dio, Gesù Cristo nostro Signore Sul piano umano, egli è discendente da Davide Ma sul piano dello Spirito che santifica Dio lo ha costituito figlio suo con potenza quando lo ha risuscitato dai morti Da Gesù Cristo io ho ricevuto il dono di essere apostolo Perché lui abbia gloria, devo portare tutti i popoli a credere in Dio E a ubbidirli nella fede Tra questi siete anche voi tutti che vivete a Roma Dio vi ha amati e chiamati per appartenere a Gesù Cristo ed essere il suo popolo Dio nostro Padre e Gesù Cristo nostro Signore Diano a voi tutti grazia e pace Prima di tutto, per mezzo di Gesù Cristo Io ringrazio il mio Dio Perché in ogni parte del mondo si parla della vostra fede Dio che io servo con tutto me stesso annunziando il figlio suo Sa che dico la verità e che vi ricordo continuamente Nelle mie preghiere io chiedo sempre a Dio di poter finalmente trovare il modo di venire da voi Perché io ho il desiderio ardente di vedervi e di fare anche voi partecipi dei doni dello Spirito Perché vi rendano ancora più forti Ma soprattutto io desidero vedervi perché in mezzo a voi anch'io possa sentirmi confortato da quella che è la vostra e la mia fede Voglio che voi sappiate questo fratelli Già molte volte avevo deciso di venire a raccogliere anche tra voi qualche buon frutto Come l'ho ottenuto tra altri popoli Ma fino ad ora non mi è stato possibile Il mio compito è di rivolgermi a tutti A popoli di civiltà greca e agli altri Alla gente istruita e agli ignoranti E per quanto dipende da me Sono pronto ad annunziare il messaggio di Cristo anche a voi che siete in Roma Io non mi vergogno del messaggio del Vangelo Perché è potenza di Dio per salvare chiunque ha fede Prima l'ebreo e poi tutti gli altri Questo messaggio rivela come Dio, mediante la fede, riabilita gli uomini davanti a sé Lo afferma la Bibbia Il giusto per fede vivrà Di fatto l'ira di Dio si manifesta dal cielo contro tutti gli uomini Perché lo hanno rifiutato e hanno commesso ogni specie di ingiustizia Soffocando la verità Eppure ciò che si può conoscere di Dio è visibile a tutti Dio stesso l'ha rivelato agli uomini Infatti Fin da quando Dio ha creato il mondo Gli uomini con la loro intelligenza Possono vedere nelle cose che egli ha fatto Le sue qualità invisibili Ossia la sua eterna potenza E la sua natura divina Perciò gli uomini non hanno nessuna scusa Hanno conosciuto Dio Poi si sono rifiutati di adorarlo e di ringraziarlo come Dio Si sono smarriti in stupidi ragionamenti E così non hanno capito più nulla Essi che pretendono di essere sapienti Sono impazziti Adorano immagini dell'uomo mortale Di uccelli Di quadrupedi E di rettili Invece di adorare il Dio glorioso e immortale Per questo Dio li ha abbandonati ai loro desideri Si sono lasciati andare a impurità di ogni genere Fino al punto di comportarsi in modo vergognoso Gli uni con gli altri Proprio loro che hanno messo idoli al posto del vero Dio E hanno adorato e servito quel che Dio ha creato Anziché il Creatore A Lui solo Si allode per sempre Amen Dio li ha abbandonati Lasciandoli travolgere da passioni vergognose Le loro donne Hanno avuto rapporti sessuali contro natura Invece di seguire quelli naturali Anche gli uomini Invece di avere rapporti con le donne Si sono infiammati di passione Gli uni per gli altri Uomini con uomini Commettono azioni turpi E ricevono così In loro stessi Il giusto castigo Per questo traviamento E poiché si sono allontanati Da Dio nei loro pensieri Dio li ha abbandonati Li ha lasciati soli in balia Dei loro pensieri corrotti Ed essi hanno compiuto cose Orribili Sono ormai giunti al colmo Di ogni specie di ingiustizia E di vergognosi desideri Sono avidi Cattivi Invidiosi Assassini Litigano e ingannano Sono maligni Traditori Calunniatori Nemici di Dio Violenti Superbi Presuntuosi Inventori di mali Ribelli Ai genitori Sono disonesti E non mantengono le promesse Sono senza pietà E incapaci di amare Eppure Sanno benissimo Come Dio giudica Quelli che commettono Queste colpe Sono degni di morte Tuttavia Non solo Continuano A commetterle Ma anche Si rallegherano Con tutti quelli Che si comportano Come loro Noi sappiamo Che Dio Pronuncia Una giusta condanna Contro quelli Che si comportano In questo modo Perciò Chiunque tu sia Che giudichi Gli altri Non hai Nessuna Scusa Mentre giudichi Gli altri Condanni Te stesso Perché fai Proprio Le stesse cose Che condanni O credi forse Di sfuggire Al giudizio di Dio Visto che condanni Negli altri Quello che tu stesso fai O forse Agisci così Perché disprezzi La grande bontà La tolleranza E la pazienza Di Dio Ma non sai Che Dio Usa la sua bontà Per spingerti A cambiare vita Tu invece Sei ostinato E non sei disposto A cambiare vita In tal modo Attiri su di te La collera di Dio Per il giorno Del castigo Nel quale Egli si manifesterà Per pronunziare La sua giusta Sentenza Allora Dio Ripagherà ciascuno Secondo le proprie azioni Darà vita eterna A quelli che cercano Gloria Onore E immortalità Facendo continuamente Il bene Manifesterà invece La sua collera E la sua indignazione Contro quelli Che sono egoisti E non seguono La verità Ma obbidiscano A tutto ciò Che è ingiusto Sofferenza E angoscia Colpiranno Chi fa male Prima gli ebrei E poi tutti gli altri Ma Dio Darà gloria Onore E pace A quanti Compiono il bene Prima agli ebrei E poi a tutti gli altri Dio infatti Non fa differenze Per questo Coloro Che hanno peccato Senza conoscere La legge di Mosè Non saranno giudicati In base a tale legge Ma coloro Che hanno peccato Conoscendo la legge Di Mosè Verranno giudicati Secondo quella legge Così Dinanzi a Dio Sono giusti Non quelli Che ascoltano La legge Ma quelli Che la mettono In pratica Certo I pagani Non conoscono La legge Data da Dio Ma quando essi Compiono Ugualmente Ciò che la legge Comanda È come Se l'avessero Dentro di sé La loro condotta Dimostra Che nei loro cuori È scritto Ciò che la legge Prescrive Lo dimostrano La loro coscienza E i ragionamenti Che fanno Tra di loro Con i quali A volte Si accusano E a volte Si difendono Tutto ciò Sarà chiaro Il giorno In cui Dio Per mezzo Di Gesù Cristo Giudicherà Quel che è Nascosto Nella vita Degli uomini Questo È il messaggio Che io Ho ricevuto E che dire Di te Che porti Con orgoglio Il nome Di ebreo Ti senti sicuro Perché ti appoggi Alla legge Di Mosè E sei fiero Del tuo Dio Credi Di conoscere La sua volontà E di sapere Quel che è meglio Fare Perché ti hanno Insegnato La legge Sei convinto Addirittura Di essere Una guida Per i ciechi Una luce Per quelli Che sono Nelle tenebre Un maestro Degli ignoranti E un educatore Dei semplici Perché possiedi La legge Che rappresenta Per te La sapienza E la verità Ma perché Tu che insegni Agli altri Non insegni A te stesso Predichi Di non rubare E tu rubi Dici Di non commettere Adulterio E tu sei Adultero Disprezzi Gli idoli E tu fai affari Nei loro templi Ti vanti Della legge Ma tu non lo servi E così Offendi Dio La Bibbia Ha davvero Ragione Quando afferma Per colpa Vostra I non credenti Parlano male Di Dio Anche il fatto Che tu sia Circonciso Ha un senso Soltanto Se metti in pratica La legge Se invece Non la osservi È come se tu Non avessi mai Ricevuto La circoncisione Perché Dio Considera Come circonciso Colui Che non lo è Ma che di fatto Ubbidisce Ai precetti Della legge Per questo Chi senza essere Circonciso Sul corpo Adempie la legge Giudicherà te Che non la metti In pratica Anche se La possiedi Per iscritto E sei un circonciso Ma allora Gli ebrei Hanno ancora Dei vantaggi In confronto Agli altri popoli E la circoncisione È ancora Per loro Di qualche utilità? Senz'altro E per molti motivi Anzitutto Perché Dio Ha affidato Le sue promesse Al popolo ebraico È vero Che alcuni Sono stati Infedeli Ma la loro Infedeltà Può forse Impedire Che Dio Sia fedele? No di certo Sia chiaro Piuttosto Che l'uomo È infedele Mentre Dio Agisce Sempre con fedeltà Nella Bibbia Sta scritto Tu O Dio Sarai riconosciuto Giusto Quando parli E quando sarai Chiamato in giudizio Risulterai Vincitore Qualcuno potrebbe dire Se il male Che commettiamo Serve a dimostrare Che Dio È fedele Allora Si mostra ingiusto Quando ci castiga Ma Dio Non è ingiusto Altrimenti Non sarebbe Il giudice del mondo Qualcuno Potrebbe ancora Insistere Perché Dio Mi condanna Come peccatore Io non faccio altro Che mettere in risalto La fedeltà di Dio E contribuisco Alla sua gloria Quando agisce male Ma allora Facciamo il male Perché ne venga Un bene Alcuni parlano Male di me E mi accusano Di dire Facciamo il male Perché ne venga Un bene Dicono Il falso Ed è giusto Che siano condannati Che vuol dire Che noi ebrei Abbiamo qualche superiorità Sugli altri No Infatti Ho dimostrato Che tutti Sono peccatori Sia gli ebrei Sia gli altri uomini La Bibbia dice Nessun uomo È giusto Nemmeno uno Non c'è nessuno Non c'è nessuno Che capisca Nessuno Che cerchi Dio Tutti Hanno smarrito La retta via Tutti Insieme Si sono corrotti Non c'è nessuno Che faccia il bene Neppure uno La loro gula È una tomba Aperta E se parlano Ingannano C'è veleno Di vipera Sulle loro labbra E la loro bocca È piena di amare Maledizioni Corrono veloci Quando si tratta Di uccidere E dove passano Lasciano distruzione E miseria Non conoscono La via della pace E vivono Senza alcun Timore di Dio Tutto questo Lo dice la Bibbia E noi sappiamo Che lo dice Per coloro Che sono sotto Il dominio Della legge Perciò Tutti Chiudano la bocca E il mondo Intero Si riconosca Colpevole Davanti a Dio Perché Nessuno Potrà essere Riconosciuto Giusto Da Dio Grazie alle opere Che la legge Comanda La legge Serve soltanto A far conoscere Ciò che è male Ora viene rivelato Quel che la legge Di Mosè E i profeti Hanno affermato Dio Riabilita Davanti a sé Tutti quelli Che credono In Gesù Cristo E lo fa Indipendentemente Dalla legge E senza Alcuna distinzione Tra gli uomini Perché Tutti Hanno peccato E sono privi Della presenza Di Dio Che salva Ma ora Siamo nella giusta Relazione con Dio Perché Egli Nella sua bontà Ci ha liberati Gratuitamente Per mezzo Di Gesù Cristo Dio infatti Ha presentato Gesù Che muore In croce Come mezzo Di perdono Per quelli Che credono In Lui Dio Così dimostra Che è sempre Giusto Sia nel passato Quando in vista Del perdono Tollerava Pazientemente I peccati Commessi Sia nel tempo Presente Perché ora Egli accoglie Come suoi Coloro Che credono In Gesù Ci sono ancora Motivi Per insuperbirsi No Sono stati Tutti eliminati Perché non vale Più la legge Delle opere Ma vale Quella della fede Noi riteniamo Infatti Che Dio Accoglie Come suoi Quelli che credono Indipendentemente Dalle opere Della legge Dio è forse Soltanto Il Dio Degli ebrei No Egli è anche Il Dio Di tutti Gli altri popoli E' chiaro Perciò Che vi è Un solo Dio Che mette Nella giusta Relazione Con sé Tutti quelli Che credono Ebrei E non ebrei Ma allora Mediante La fede Togliamo Ogni valore Alla legge No di certo Anzi Diamo Alla legge Il suo Giusto valore Che cosa Dobbiamo dire Del nostro Antenato Abramo Che cosa Ha ottenuto Con le sue Sole forze Se la posizione Di Abramo Dinanzi a Dio Dipendesse Dalle sue Opere Egli Potrebbe Vantarsene Ma non Con Dio Che cosa Dice Infatti La Bibbia Abramo Ebbe fiducia In Dio E per questo Dio lo considerò Giusto Quando uno Lavora E riceve Una paga Questa Non gli è data Come regalo Ma perché Gli è dovuta Quando invece Un uomo Non compie Un lavoro Ma crede Soltanto Che Dio Accoglie Favorevolmente Il peccatore È per questa Sua fede Che Dio Lo considera Giusto Anche Davide Proclama Beato L'uomo Che Dio Considera Giusto Indipendentemente Dalle opere Che compie Beati Coloro Ai quali Dio Ha perdonato Le colpe E cancellato I peccati Beato L'uomo Al quale Il Signore Non mette In conto Il peccato La gioia Del perdono È data Solamente A chi È circonciso Oppure Anche A chi Non lo è Abbiamo appena Detto Abramo Ebbe Fede In Dio E per questo Dio Lo considerò Giusto Ma Quando Lo considerò Giusto Prima Che fosse Circonciso O dopo Prima Quando Non lo era Ancora Egli ricevette La circoncisione In seguito Come segno Che Dio Lo aveva Considerato Giusto Per la sua Fede Così Abramo È diventato Padre Di tutti Quelli Che credono In Dio Senza Essere Circoncisi Dio Considera Giusti Anche Loro Allo stesso Modo Abramo È anche Il padre Di tutti Quelli Che sono Circoncisi I quali Però Non si Accontentano Di questo Fatto Ma Seguono L'esempio Della fede Che Abramo Che Abramo Nostro Padre Ha avuto Prima Di essere Circonciso Dio Promise Ad Abramo Che i suoi Discendenti Avrebbero avuto In eredità Il mondo Intero Questa Promessa Fu fatta Non perché Abramo Avesse Ubbidito Alla legge Ma perché Dio L'aveva Considerato Giusto A motivo Della sua Fede Se gli eredi Fossero Quelli Che ubbidiscono Alla legge Di Mosè La fede Diventerebbe Inutile E la promessa Di Dio Non avrebbe Alcun senso La legge Infatti Provoca La collera Di Dio Ma dove Non c'è Nessuna Legge Non ci può Essere Nemmeno Una Disobbedienza Quindi Si diventa Eredi Della promessa Di Dio Perché Si ha Fede L'eredità È data Per grazia Solo così La promessa È assicurata A tutti I discendenti Di Abramo Non soltanto A quelli Che hanno La legge Ma anche A quelli Che hanno Fede Come Abramo Egli È il padre Di tutti Noi Dice Infatti La Bibbia Ti ho fatto Diventare Padre Di molti Popoli Egli È nostro Padre Dinanzi A Dio Perché Ha creduto In colui Che fa rivivere I morti E chiama All'esistenza Le cose Che ancora Non esistono Al di là Di ogni Umana Speranza Egli Credette Che sarebbe Diventato Padre Di molti Popoli Perché Dio Gli aveva Detto Molto Numerosi Saranno I tuoi Discendenti Abramo Aveva Allora Circa Cent'anni E Si rendeva Conto Che il suo Corpo E quello Di Sara Erano Come morti Cioè Ormai Incapace Di avere Figli Eppure Continuò A credere Egli Non Dubitò Minimamente Della promessa Di Dio Anzi Rimase Forte Nella fede E diede Gloria A Dio Pienamente Convinto Che Dio Era in grado Di mantenere Ciò Che aveva Promesso Ecco Perché Dio Lo considerò Giusto Ma non Soltanto Per lui La Bibbia Dice Che lo considerò Giusto Ma anche Per noi Anche noi Saremmo Considerati Giusti Perché Crediamo In Dio Che ha Risuscitato Dai morti Gesù Nostro Signore Egli È stato Messo A morte A causa Dei nostri Peccati Ma Dio Lo ha Risuscitato Per metterci In rapporto Giusto Con sé Dio Dunque Ci ha Accolti Come suoi Noi Ti abbiamo Creduto Perciò Ora Siamo In pace Con Dio Per mezzo Del Signore Nostro Gesù Cristo Per mezzo Suo Possiamo Accostarci Con la Fede Alla Bontà Di Dio Che ci Accoglie E siamo Orgogliosi Della nostra Speranza Un giorno Dio Ci farà Partecipare Alla sua Gloria Ma c'è Di più Addirittura Siamo Orgogliosi Delle nostre Sofferenze Perché sappiamo Che la sofferenza Produce Perseveranza La perseveranza Ci rende forti Nella prova E questa forza Ci apre Alla speranza La speranza Poi Non porta Alla delusione Perché Dio Ha messo Il suo amore Nei nostri cuori Per mezzo Dello Spirito Santo Che ci ha Dato Noi eravamo Ancora incapaci Di avvicinarci A Dio Quando Cristo Nel tempo Stabilito Morì Per i peccatori È difficile Che qualcuno Sia disposto A morire Per un uomo Onesto Al massimo Si potrebbe Forse Trovare Qualcuno Disposto A dare La propria Vita Per un uomo Buono Cristo Invece È morto Per noi Quando eravamo Ancora Peccatori Questa È la prova Che Dio Ci ama Ma non basta Ora Dio Per mezzo Della morte Di Cristo Ci ha messi Nella giusta Relazione Con sé A maggior ragione Ci salverà Dal castigo Per mezzo Di lui Noi eravamo Suoi nemici Eppure Dio Ci ha riconciliati A sé Mediante La morte Del figlio Suo A maggior ragione Ci salverà Mediante La vita Di Cristo Dopo averci Riconciliati E non Basta Addirittura Possiamo Vantarci Di fronte A Dio Per mezzo Del Signore Nostro Gesù Cristo Perché Ora Grazie a Lui Dio Ci ha Riconciliati Con sé Il peccato È entrato Nel mondo A causa Di un solo Uomo Adamo E il peccato Ha dominato Gli uomini Anche quelli Che non avevano Disubbidito Come Adamo A un ordine Di Dio Adamo era la figura Di colui Che doveva venire Ma quale differenza Tra il peccato Di Adamo E quel che Dio Ci dà Per mezzo Di Cristo Adamo da solo Con il suo peccato Ha causato La morte Di tutti Gli uomini Dio Invece Per mezzo Di un solo Uomo Gesù Cristo Ci ha dato Con abbondanza I suoi doni E la sua grazia Dunque Il dono Di Dio Ha un effetto Diverso Da quello Del peccato Di Adamo Il giudizio Provocato Dal peccato Di un solo uomo Ha portato Alla condanna Mentre il dono Concesso Dopo tanti peccati Ci ha messi Nel giusto Rapporto Con Dio Certo La morte Ha dominato Per la colpa Di un solo uomo Ma ora Si ha molto Di più Quelli che ricevono L'abbondante Grazia Di Dio E sono stati Accolti Da Lui Parteciperanno Alla vita Eterna Unicamente Per mezzo Di Gesù Cristo Dunque Uno solo È caduto Adamo E ha causato La condanna Di tutti gli uomini Così Uno solo Ha ubbidito Gesù Cristo E ci ha Ristabiliti Nella giusta Relazione Con Dio Che è fonte Di vita Per tutti Gli uomini Per la disubbidienza Di uno solo Tutti Risultarono Peccatori Per l'ubbidienza Di uno solo Tutti Sono accolti Da Dio Come suoi In seguito Venne la legge E così I peccati Si moltiplicarono Ma dove Era abbondante Il peccato Ancora più Abbondante Fu la grazia Il peccato Ha manifestato Il suo potere Nella morte La grazia Manifesta Il suo potere Nel fatto Che Dio Ci accoglie E ci dà La vita Eterna Per mezzo Di Gesù Cristo Nostro Signore Quale sarà La conclusione Che dobbiamo Restare Nel peccato Affinché sia Più abbondante La grazia Di Dio No di certo Noi Che siamo Morti Al peccato Come potremmo Ancora Vivere In esso Vi siete Dimenticati Che il nostro Battesimo Unendoci A Cristo Ci ha Uniti Alla Sua Morte Per mezzo Del Battesimo Che ci ha Uniti Alla Sua Morte Siamo Dunque Stati Sepolti Con Lui Affinché Come Cristo È risuscitato Dai morti Mediante La potenza Gloriosa Del Padre Così Anche Noi Vivessimo Una nuova Vita Infatti Se siamo Stati Totalmente Uniti A Lui Con una Morte Simile Alla Sua Lo saremmo Anche Con una Risurrezione Simile Alla Sua Una cosa Sappiamo Di certo L'uomo Vecchio Che è In noi Ora È stato Crucifisso Con Cristo Per distruggere La nostra Natura Peccaminosa E liberarci Dal peccato Colui Che è Morto È libero Dal dominio Del peccato Ma se siamo Morti Con Cristo Crediamo Che vivremo Con Lui Perché sappiamo Che Cristo Risuscitato Dai morti Non muore Più La morte Non ha più Potere Su di Lui Quando Egli Morì Morì Nei confronti Del peccato Una volta Per sempre Ma ora Vive E vive Per Dio Così Anche voi Consideratevi Morti Al peccato Ma Viventi Per Dio Con Cristo Gesù Il peccato Non abbia dunque Più potere Su di voi Anche se Doveste ancora Morire Non ubbidite più Ai suoi desideri Perversi Non trasformatevi In strumenti Di male Al servizio Del peccato Offritevi invece Come strumenti Di bene Al servizio Di Dio Perché siete Come uomini Che sono tornati Dalla morte Alla vita Il peccato Non avrà più Potere Su di voi Perché non siete Più sotto La legge Ma sotto La grazia Ma che cosa Faremo Ci metteremo A peccare Perché non siamo Più sotto La legge Ma sotto La grazia Sarebbe assurdo Sapete benissimo Che se vi mettete Al servizio Di qualcuno Dovete Ubbidirli E diventare Suoi Schiavi Sia Del peccato Che conduce Alla morte Sia Di Dio Che vi conduce A una vita Giusta Dinanzi a Lui Prima Voi Eravate Schiavi Del peccato Poi Avete Ubbidito Di tutto cuore All'insegnamento Che avete Ricevuto Perciò Ringraziamo Dio Perché Perché Non siete Più schiavi Del peccato Ma siete Entrati Al servizio Di ciò Che è giusto Sto parlando Con esempi Umani Perché possiate Capire Come prima Diceva la morte Nostro Signore È considerata Adultera Se va con Un altro uomo Quando il marito È ancora in vita Ma se Questi muore È libera Per quel che Riguarda La legge E non è più Adultera Se va con Un altro uomo Qualcosa di simile Accade per voi Fratelli miei Voi Siete morti Nei confronti Della legge Di Mosè Perché siete Stati uniti A Cristo Nella sua morte Perciò ora voi Appartenete a colui Che è risuscitato Dai morti Affinché la vostra vita Sia ricca Di opere Gradite a Dio Quando infatti Noi vivevamo Seguendo i nostri Desideri La legge Stimolava Passioni malvagie Che ci facevano Agire in modo Da portarci Alla morte Ma ora Siamo morti Nei confronti Della legge Che ci teneva In suo potere Non siamo più Al suo servizio Perciò Serviamo Dio Non più Secondo Il vecchio sistema Che era fondato Sulla legge Scritta Ma in modo nuovo Guidati Dallo spirito Dobbiamo forse Concludere Che la legge È peccato No di certo La legge Però Mi ha fatto conoscere Che cos'è Il peccato Per esempio Io ho saputo Che era possibile Desiderare cose Cattive Perché la legge Ha detto Non desiderarle Il peccato Allora Da quel comandamento Ha preso L'occasione Per far nascere In me Ogni specie Di desideri Invece Dove non c'è La legge Il peccato È senza vita E io Prima vivevo Senza la legge Ma quando venne Nel comandamento Allora il peccato Prese vita E io Morì Così il comandamento Che doveva condurmi Alla vita Nel mio caso Mi ha condotto Alla morte Il peccato Infatti Ha colto L'occasione Offerta dal comandamento Mi ha sedotto E mi ha fatto morire Per mezzo Dello stesso comandamento Di per sé La legge È santa E il comandamento È santo Giusto È buono Quel che è buono Sarebbe dunque Diventato per me Causa di morte No È il peccato Che causa La morte Si è manifestato Per quel che Realmente è Si è mostrato In tutta la sua Violenza Per mezzo Di una cosa Buona Servendosi Cioè Del comandamento Noi certo Sappiamo Che la legge È spirituale Ma io Sono un essere Debole Schiavo Del peccato Difatti Non riesco Nemmeno A capire Quello che faccio Non faccio Quello che voglio Ma quello che odio Però Se faccio Quello che non voglio Riconosco Che la legge È buona Allora Non sono più io Che agisco È invece Il peccato Che abita in me So infatti Che in me In quanto uomo peccatore Non abita il bene In me c'è il desiderio Del bene Ma non c'è la capacità Di compierlo Infatti Io non compio Il bene che voglio Ma faccio Il male Che non voglio Ora Se faccio Quel che non voglio Non sono più io Ad agire Ma il peccato Che è in me Io scopro Allora Questa contraddizione Ogni volta Che voglio Fare il bene Trovo in me Soltanto La capacità Di fare il male Nel mio intimo Io sono d'accordo Con la legge Di Dio Ma vedo In me Un'altra legge Quella Che contrasta Fortemente La legge Che la mia mente Approva E che mi rende Schiavo Della legge Del peccato Che abita in me Eccomi dunque Con la mente Pronto a servire La legge Di Dio Mentre Di fatto Servo La legge Del peccato A me Infelice La mia condizione Di uomo Peccatore Mi trascina Verso la morte Che mi libererà Rendo grazie A Dio Che mi libera Per mezzo Di Gesù Cristo Nostro Signore Ora dunque Non c'è più Nessuna condanna Per quelli Che sono uniti A Cristo Gesù Perché la legge Dello spirito Che dà la vita Per mezzo Di Gesù Cristo Mi ha liberato Dalla legge Del peccato E della morte Per togliere Il peccato Dio ha mandato Suo figlio In una condizione Simile alla nostra Di uomini Peccatori E ha condannato Il peccato In questo modo Dio ha compiuto Quel che la legge Di Mosè Non poteva ottenere A causa Della debolezza Umana E in noi Si compie Quel che la legge Comanda Perché non viviamo Più Nella debolezza Ma siamo Fortificati Dallo spirito Quelli Che si lasciano Guidare Dallo spirito Si preoccupano Di quello che vuole Lo spirito Quelli che si lasciano Guidare Dalla propria Debolezza Cercano Di soddisfare Il loro egoismo Seguire L'istinto Egoistico Conduce La morte Seguire Lo spirito Conduce Alla vita E alla pace Perché Quelli che Seguono Le inclinazioni Dell'egoismo Sono nemici Di Dio Non si Sottomettono Alla legge Di Dio Non ne sono Capaci Essi Non possono Piacere A Dio Perché Vivono Secondo Il proprio Egoismo Voi però Non vivete Così Vi lasciate Guidare Dallo spirito Perché Lo spirito Di Dio Abita In voi Ma se Qualcuno Non ha Lo spirito Donato Da Cristo Non gli appartiene Se invece Agisce In voi Voi morite Sì A causa Del peccato Ma Dio Vi accoglie E il suo spirito Vi dà vita Se lo spirito Di Dio Che ha risuscitato Gesù Dai morti Abita in voi Lo stesso Dio Che ha risuscitato Cristo Dai morti Darà la vita Anche a voi Sebbene dobbiate Ancora morire Mediante il suo spirito Che abita in voi Fratelli Noi siamo dunque Impegnati Non a seguire La voce Del nostro egoismo Ma quella Dello spirito Se seguite La voce Dell'egoismo Morirete Se invece Mediante Lo spirito La soffocherete Voi Vivrete Infatti Quelli che si lasciano Guidare Dallo spirito Di Dio Sono figli Di Dio E voi Non avete ricevuto In dono Uno spirito Che vi rende Schiavi O che vi fa Di nuovo Vivere Nella paura Ma avete ricevuto Lo spirito Di Dio Che vi fa Diventare Figli di Dio E vi permette Di gridare Abba Che vuol dire Padre Quando vi rivolgete A Dio Perché Lo stesso spirito Ci assicura Che siamo Figli di Dio E dal momento Che siamo Suoi figli Parteciperemo Anche Delle eredità Che Dio Ha promesso Al suo popolo Saremo eredi Insieme Con Cristo Perché Se soffriamo Con Lui Parteciperemo Anche Con Lui Alla gloria Io penso Che le sofferenze Del tempo presente Non siano Assolutamente Paragonabili Alla gloria Che Dio Manifesterà Verso di noi Tutto L'universo Aspetta Con grande Impazienza Il momento In cui Dio Mostrerà Il vero Volto Dei Suoi figli Il creato E' stato Condannato A non avere Senso Non perché L'abbia voluto Ma a causa Di chi Ve lo ha Trascinato Vi è però Una speranza Anch'esso Sarà liberato Dal potere Della corruzione Per partecipare Alla libertà E alla gloria Dei figli Di Dio Noi sappiamo Che fino ad ora Tutto il creato Soffre E geme Come una donna Che partorisce E non soltanto Il creato Ma anche noi Che già abbiamo Le primizie Dello spirito Soffriamo In noi stessi Perché Aspettiamo Che Dio Liberandoci Totalmente Manifesti Che siamo Suoi figli Perché è vero Che siamo Salvati Ma soltanto Nella speranza E se quel che si spera Si vede Non c'è più Una speranza Dal momento Che nessuno Spera Ciò che già Vede Se invece Speriamo Quel che Non vediamo Ancora Lo aspettiamo Con pazienza Allo stesso modo Anche lo spirito Viene in aiuto Della nostra debolezza Perché noi Non sappiamo Neppure come Dobbiamo pregare Mentre lo spirito Stesso Prega Dio per noi Con sospiri Che non si possono Spiegare a parole E Dio Che conosce I nostri cuori Conosce anche Le intenzioni Dello spirito Che prega Per i credenti Come Dio Desidera Noi siamo sicuri Di questo Dio fa tendere Ogni cosa Al bene Di quelli Che lo amano Perché li ha chiamati In base al suo Progetto di salvezza Da sempre Li ha conosciuti E amati E da sempre Li ha destinati A essere simili Al figlio suo Così che il figlio Sia il primogenito Fra molti fratelli Ora Dio Che da sempre Aveva preso Per loro Questa decisione Li ha anche Chiamati Li ha accolti Come suoi E li ha fatti Partecipare Alla sua gloria Che cosa diremo Dunque Di fronte A questi fatti Se Dio È per noi Chi sarà Contro di noi Dio Non ha risparmiato Il proprio figlio Ma lo ha dato Per tutti noi Perciò Come potrebbe Non darci Ogni cosa Insieme Il dolore O l'angoscia La persecuzione O la fame O la miseria I pericoli O la morte Violenta Perciò la Bibbia Dice Per causa tua Siamo messi a morte Ogni giorno E siamo trattati Come pecore Portate al macello Ma in tutte queste cose Noi otteniamo La più completa vittoria Grazie a colui Che ci ha amati Io sono sicuro Che né morte Né vita Né angeli Né altre autorità O potenze celesti Né il presente Né l'avvenire Né forze del cielo Né forze della terra Niente E nessuno Ci potrà strappare Da quell'amore Che Dio Ci ha rivelato In Cristo Gesù Nostro Signore Non racconto bugie Quel che dico È vero Perché appartengo A Cristo La mia coscienza Guidata dallo Spirito Testimonia Che dico la verità C'è in me Una grande tristezza È una continua Sofferenza Vorrei essere Io stesso Maledetto da Dio Separato da Cristo Se ciò Potesse aiutare I miei fratelli Quelli Del mio stesso popolo Essi sono Israeliti Dio Li ha scelti Come figli E ha manifestato A loro La sua gloriosa Presenza Con loro Dio Ha stabilito I suoi patti E a loro Ha dato La legge Il culto E le promesse Essi Sono i discendenti Dei patriarchi E da loro Sul piano umano Proviene Il Cristo Che è Dio E regna Su tutto Il creato Sia benedetto In eterno Amen La parola La parola di Dio Non ha fallito In nessun modo Perché non tutti I discendenti Di Giacobbe Sono il vero popolo Di Israele E non tutti I discendenti Di Abramo Sono veri figli Di Abramo Anzi Dio Ha detto Ad Abramo Per mezzo Di Isacco Tu avrai I discendenti Questo significa Che non sono Considerati figli Di Dio Quelli generati Naturalmente Ma quelli nati In seguito Alla promessa E la promessa È questa Ritornerò Fra un anno E Sara Avrà un figlio E non basta C'è anche il caso Di Rebecca Rebecca Ebbe da Isacco Nostro antenato Due gemelli Quando Non erano Ancora nati E non avevano Ancora fatto nulla Né di bene Né di male Dio disse A Rebecca Il maggiore Servirà Il minore Proprio Come dice La Bibbia Ho scelto Giacobbe E non Esau Ciò dimostra Che Dio Ha il suo progetto Per scegliere Gli uomini La sua scelta Non dipende Dalle loro opere Ma da lui Che chiama Dovremmo dunque Affermare Che Dio È ingiusto No di certo Perché Egli dice A Mosè Avrò pietà Di chi vorrò Aver pietà E avrò Compassione Di chi vorrò Aver compassione Tutto dipende Da Dio Che ha misericordia E non Da ciò Che l'uomo Vuole O si sforza Di fare Nella Bibbia Dio dice Al faraone Proprio Per questo Ti ho fatto Diventare re Per mostrare In te In te la mia potenza E far conoscere Il mio nome Su tutta la terra Dio dunque Ha pietà Di chi vuole E indurisce Il cuore A chi vuole A questo punto Qualcuno potrebbe Dirmi Ma allora Perché Dio Ci rimprovera Dal momento Che nessuno Può andare Contro la sua Volontà Ma che Credi Di essere Tu O uomo Che vuoi Contestare Dio Dice forse Il vaso Di argilla A colui Che l'ha Plasmato Perché Mi hai Fatto Così Con lo stesso Impasto Il vasaio Fa quel che vuole Può fare Sia un vaso Di valore E sia Un vaso Più comune Volendo Dio avrebbe potuto Mostrare La sua collera Invece Ha sopportato Con molta pazienza Coloro Che meritavano Il suo castigo E la distruzione Così Ha fatto conoscere Quanto è grande E potente La sua misericordia Ci ha preparati Per la sua Gloria A noi Che gli ha scelto Tra gli ebrei E tra gli altri popoli Come Dio dice Nel libro del profeta Osea Io chiamerò Mio popolo Coloro Che non sono Il mio popolo E nazione amata Quella che non era Amata E avverrà Che nel luogo Stesso Dove fu detto Loro Voi non siete Mio popolo Lì saranno Chiamati Figli Del Dio vivente Per quanto riguarda Israele Il profeta Isaia Esclama Se anche i figli Di Israele Fossero Tanto numerosi Quanto i grani Della sabbia Del mare Solo un piccolo Resto Sarà salvato Il Signore Realizzerà Pieno E rapidamente Questa sua parola Sulla terra Lo stesso Isaia Ha ancora Predetto Se il Signore Dio Dell'universo Non ci avesse Lasciato Una discendenza Avremmo fatto La fine Della città Di Sodoma Saremmo State Distrutti Come la città Di Gomorra Ecco dunque La nostra Conclusione Gente Che non era Del popolo Di Israele Che non aveva Fatto nulla Per mettersi A posto Con Dio È stata messa Da Dio Stesso In quella Giusta Relazione Con Lui Che viene Dalla fede Israele Invece Che cercava Di mettersi A posto Con Dio Con l'osservanza Della legge Non ci ha riuscito Perché? Perché Israele Non si fondava Sulla fede Ma sulle opere Così ha urtato Nella piena Di inciampo Di cui Dio Dice nella Bibbia Ecco Io pongo Sul monte Sion Una pietra D'inciampo Un sasso Che fa cadere Ma chi crede In Lui Non sarà deluso Fratelli Io desidero Con tutto il cuore E domando a Dio Che gli ebrei Siano salvati Posso infatti Testimoniare Che essi Sono pieni Di zelo Per Dio Ma il loro zelo Non è guidato Da una giusta Conoscenza Essi non hanno capito Che Dio Mette egli stesso Gli uomini Nel giusto rapporto Con sé E hanno cercato Di arrivarci Da soli Per questo Non si sono Sottoposti A Dio Che salva In Cristo Cristo È lo scopo E la fine Della legge Di Mosè Perciò Chiunque crede È posto Nella giusta Relazione Con Dio Così Mosè Descrive la salvezza Mediante la legge L'uomo Che la mette In pratica Vivrà Riguardo alla salvezza Che viene Dalla fede Invece dice Non chiederti Se è necessario Salire in cielo O scendere Nell'abisso Perché Cristo È sceso Dal cielo Ed è risuscitato Dai morti Che dice la Bibbia La parola È vicino a te Sulla tua bocca E nel tuo cuore Così È l'annunzio Della fede Che noi Predichiamo Se nel tuo cuore Credi che Dio Ha risuscitato Gesù dai morti E con la tua voce Dichiari che Gesù è il Signore Sarai salvato Dio Accoglie Chi crede Veramente Chi dichiara La propria fede Sarà salvato Infatti La Bibbia Dice Chi crede In Lui Non sarà Deluso Non vi è Perciò Differenza Fra chi è Ebreo E chi non lo è Perché il Signore È lo stesso Per tutti Immensamente Generoso Verso tutti Quelli Che lo invocano Afferma Infatti La Bibbia Chiunque invocherà Il nome del Signore Sarà salvato Ma come potranno invocare Il Signore Se non hanno creduto E come potranno credere In Lui Se non ne hanno sentito Parlare E come ne sentiranno Parlare Se nessuno Lo annunzia E chi lo annunzierà Se nessuno È inviato A questo scopo Come dice la Bibbia Che gioia Quando arriveranno Quelli che portano Buone notizie Ma non tutti Hanno ubbidito Alla parola Del Signore Lo dice Esaia Signore Chi ha creduto Al nostro annunzio La fede Dipende Dall'ascolto Della predicazione Ma l'ascolto È possibile Se c'è Chi predica Cristo Ora io Mi domando Il popolo D'Israele Non ha forse Udito L'annunzio Dei messaggeri Anzi La loro voce Si è fatta udire Su tutta la terra E la loro parola Fino alle estremità Del mondo Ma io Insisto ancora Israele Non ha forse Capito Vediamo Quello che Dio Ha già detto Per bocca di Mosè Vi renderò Gelosi Di gente Che non è Neppure Un popolo Provocherò Il vostro Sdegno Contro gente Che non capisce E poi Giunge perfino A dichiarare Nel libro Di Isaia Sono stato Trovato Da coloro Che non Mi cercavano Mi sono Fatto Conoscere Da coloro Che non Chiedevano Di me Parlando Invece Di Israele Tutto il giorno Ho teso le mani Verso un popolo Disubbidiente E ribelle Ora Io chiedo Dio Ha forse Respinto Il suo popolo No Io stesso Infatti Sono israelita Discendente Di Abramo Della tribù Di Beniamino Dio Non ha Respinto Il suo popolo Che aveva scelto E amato Sin dall'inizio Voi Conoscete Certamente Quel passo Della Bibbia In cui Elia Si rivolge A Dio Parlando Contro Israele Signore Hanno ucciso I tuoi profeti Hanno demolito I tuoi altari Io solo Sono scampato E cercano Di uccidermi Ma Dio Gli rispose Mi sono riservato Sette mila Uomini Che non hanno Mai adorato Il Dio Baal Così Anche nel presente Vi è un certo Numero di Israeliti Che Dio Ha scelti Per grazia E se ha Agito Per grazia Non è a causa Delle opere Altrimenti La grazia Non sarebbe Grazia Possiamo quindi Concludere Che il popolo Di Israele Non ha ottenuto Quello che cercava Mentre Lo hanno ottenuto Quelli Che Dio Si è scelti Gli altri Invece Sono stati Resi Incapaci Di comprenderlo Come è scritto Nella Bibbia Dio Li ha resi Insensibili Ha fatto in modo Che avessero Occhi Che non vedano E orecchi Che non odano Fino a oggi E Davide Dice Le loro feste Diventino per loro Un laccio E una trappola Causa di caduta E di giusto Castigo I loro occhi Si oscurino Tanto da non vedere Fa curvare Per sempre La loro schiena Gli ebrei Hanno inciampato Ma io mi domando La loro caduta È definitiva? No di certo Ma la loro caduta Ha favorito La salvezza Degli altri popoli E questo è avvenuto Per spingere Gli ebrei Alla gelosia Se la loro caduta Ha già arricchito Il mondo E il loro fallimento Ha avvantaggiato Gli altri popoli Quale maggior Beneficio Nascerà Dalla loro Completa partecipazione Alla salvezza Mi rivolgo ora A voi Che non siete ebrei Proprio perché Sono stato inviato A voi Come apostolo Cerco di fare onore A questo mio incarico Rendendo gelosi Di voi Alcuni dei miei Collazionali Perché accolgano La salvezza Se Dio Li ha messi da parte Per riconciliare A sé Il mondo Che cosa avverrà Quando li accoglierà Di nuovo Sarà veramente Un ritorno Da morte A vita Se la primizia Del raccolto È consacrata A Dio Anche il resto Gli è consacrato E se la radice Di un albero È consacrata A Dio Lo sono Anche i rami Ora Israele È come un olivo Al quale Dio Ha tagliato Alcuni rami Al loro posto Ha innestato te Che non sei ebreo E che eri Come un olivo Selvatico E ti ha Reso partecipe Dell'abbondante Linfa Che sale Dalla radice Tu però Non pensare Di essere Superiore Ai rami tagliati Non ti puoi vantare In alcun modo Perché Non sei tu Che porti la radice Ma la radice Porta te Tu potresti dirmi Quei rami Sono stati tagliati Perché io fossi Innestato al loro posto È vero Sono stati tagliati Per mancanza di fede E tu ti sei messo Al loro posto Perché hai fede Tu però Non diventare superbo Ma sta attento Perché Dio Se non ha risparmiato Gli ebrei Che sono i rami naturali Non risparmierà Neppure te Ricorda dunque Come Dio È allo stesso tempo Buono E severo È stato severo Verso quelli Che sono caduti Ma Buono Verso di te Rimani perciò Fedele Alla sua bontà Altrimenti Anche tu Sarai tagliato via E gli altri Ossia gli ebrei Se non continuano A rimanere Nella loro incredulità Saranno innestati Di nuovo Dio Ha il potere Di farlo Perché Dio Se ha tagliato Te da Quell'olivo Selvatico In cui Eri cresciuto E contro Ogni regola Di innesto Ti ha inserito Sull'olivo Buono Tanto più Potrà Innestare Di nuovo Gli ebrei Sul loro Proprio Olivo Fratelli Io voglio Farvi conoscere Il misterioso Progetto Di Dio Perché Non diventiate Presuntuosi Una parte Di Israele Continuerà Nella sua Ostinazione Fino a che Tutti gli altri Popoli Non saranno Giunti Alla salvezza E così Tutto Israele Sarà salvato Lo dice La Bibbia Il liberatore Verrà Da Sion Ed eliminerà La disubbidienza Dei discendenti Di Giacobbe Sarà questo Il patto Che io farò Con loro Quando distruggerò I loro peccati Per la predicazione Del Vangelo A vostro vantaggio Sono diventati Nemici Per scelta Di Dio A causa Dei loro Padri Restano Amici Dio infatti Non ritira I doni Che ha fatto E non muta Parere Verso quelli Che ha chiamato Come voi Nel passato Avete disubbidito A Dio Così ora Israele Ma Dio Ora Malgrado La disubbidienza Di Israele Ha avuto Misericordia Di voi Per usare Poi Misericordia Anche verso Di loro Dio Ha rinchiuso Tutti gli uomini Nella disubbidienza Per concedere A tutti La sua misericordia Oh Dio Com'è immensa La tua ricchezza Com'è grande La tua scienza E la tua saggezza Davvero Nessuno Potrebbe Conoscere Le tue Decisioni Né capire Le vie Da te Scelte Verso la salvezza Chi mai Chi mai Ha potuto Conoscere Il tuo Pensiero Oh Signore E chi mai Ha saputo Darti Un consiglio Chi ti ha Dato Qualche cosa Per riceverne Il contraccambio Tutto Viene Da te Tutto Esiste Grazie a te E tutto Tende Verso di te A te Sale O Dio Il nostro Inno di lode Per sempre Amen Dio ha manifestato La sua misericordia Verso di noi Vi esorto dunque Fratelli A offrire Voi stessi A Dio In sacrificio Vivente A Lui Dedicato A Lui Gradito E questo Il vero culto Che gli dovete Non adattatevi Alla mentalità Di questo mondo Ma lasciatevi Trasformare Da Dio Con un completo Mutamento Della vostra mente Sarete così Capaci di comprendere Qual è La volontà Di Dio Vale a dire Quel che è buono A Lui Gradito Perfetto Per la grazia Che mi è stata data Dico a ciascuno Di voi Di non Sopravvalutarsi Ma di valutarsi Invece Nel modo giusto Secondo La misura Della fede Che Dio Gli ha dato In un solo corpo Vi sono molte membra Ma non tutte Hanno la stessa funzione E così noi Che siamo molti Siamo tutti uniti A Cristo E siamo uniti Agli altri Come parte Di un solo corpo Secondo la capacità Che Dio Ci ha dato Noi Abbiamo compiti Diversi Se abbiamo ricevuto Il dono Di essere profeti Annunziamo La parola di Dio Secondo la fede ricevuta Se abbiamo ricevuto Il dono Di aiutare Gli altri Aiutiamoli Chi ha avuto Chi ha avuto Il dono Dell'insegnamento Insegni Chi il dono Di esortare Esorti Chi dà qualcosa Agli altri Lo faccia Con semplicità Chi ha responsabilità Nella comunità Dimostri cura E diligenza Chi aiuta I poveri Lo faccia Con gioia Il vostro amore Sia sincero Fuggite il male Seguiti Con fermezza Il bene Amatevi Gli uni Gli altri Come fratelli Siate Premurosi Nello stimarvi Gli uni Gli altri Siate impegnati Nel fare il bene Non pigri Siate ferventi Nello spirito E nel servire Il Signore Allegri Nella speranza Pazienti Nelle tribolazioni Perseveranti Nella preghiera Siate pronti Ad aiutare I vostri fratelli Quando hanno bisogno E fate di tutto Per essere ospitati Chiedete a Dio Di benedire Quelli che vi Perseguitano Di perdonarli Non di castigarli Siate felici Con chi è nella gioia Piangete Con chi piange Andate d'accordo Tra di voi Non inseguite Desideri Di grandezza Volgetevi Piuttosto Verso le cose Umili Non vi stimate Sapienti Da voi stessi Non rendete Non rendete a nessuno Male per male Preoccupatevi Di fare il bene Dinanzi a tutti Se è possibile Per quanto dipende Da voi Vivete In pace Con tutti Non vendicatevi Carissimi Ma lasciate Agire La collera Di Dio Perché nella Bibbia Si legge A me La vendetta Dice il Signore Darò io Il contraccambio Anzi Sei il tuo nemico A fame Dagli da mangiare Sei a sete Dagli da bere Comportati così E lo farai Arrossire Di vergogna Non lasciarti Vincere Dal male Ma vinci Il male Con il bene Ognuno Si è sottomesso A chi ha ricevuto Autorità Perché non c'è Autorità Che non venga Da Dio E quelle che esistono Sono stabilite Da Dio Perciò Chi si oppone All'autorità Si oppone All'ordine Stabilito da Dio E attirerà Su di sé Un castigo Infatti Chi agisce bene Non ha paura Di chi comanda Chi invece Agisce male Ha paura Vuoi non aver paura Delle autorità Fai il bene E le autorità Ti lo deranno Perché sono Al servizio di Dio Per il tuo bene Ma se fai il male Allora devi temere Perché le autorità Hanno realmente Il potere di punire Essi sono Al servizio di Dio Per manifestare La sua collera Verso chi fa il male Ecco perché Bisogna stare Sottomessi Alle autorità Non soltanto Per paura Della punizione Ma anche Per una ragione Di coscienza È la stessa Ragione Per cui Pagate loro Le tasse Di fatti Mentre Assolvono Il loro Incarico Sono al servizio Di Dio Date Date a ciascuno Quello che Gli è dovuto L'imposta Le tasse Il timore Il rispetto A ciascuno Quello che Gli dovete dare Non abbiate Non abbiate debiti Con nessuno Salvo Quello dell'amore Vicendevole Perché chi ama Il prossimo Ha ubbidito A tutta La legge Di Dio La legge Dice Ama il tuo Prossimo Come te stesso In questo Comandamento Sono contenuti Tutti gli altri Come Non commettere Adulterio Non uccidere Non rubare Non desiderare Chi ama Il suo Prossimo Non gli fa Del male Quindi Chi ama Compie Tutta la legge Voi sapete bene Che viviamo In un momento Particolare E' tempo Di svegliarsi Perché La nostra Salvezza E' ora Più vicina Di quando Abbiamo Cominciato A credere La notte È avanzata Il giorno È vicino Buttiamo Via Le opere Delle tenebre E prendiamole Le armi Della luce Comportiamoci Onestamente Come in pieno giorno Senza orge E ubriachezze Senza Immoralità E vizi Senza litigi E invidie Non vogliate Soddisfare I cattivi Desideri Del vostro Egoismo Ma piuttosto Vivete Uniti A Gesù Cristo Nostro Signore Accogliete Chi è debole Nella fede Senza criticare Le sue opinioni Uno per esempio Crede di poter Mangiare di tutto Invece Un altro Che è debole Nella fede Mangia soltanto Verdura Se uno Mangia di tutto Non disprezzi Chi mangia Soltanto Determinati cibi E d'altra parte Costue Non condanni Chi mangia di tutto Perché Dio Ha accolto Anche lui Chi sei tu Per giudicare uno Che non è Tuo servitore Che egli faccia Bene il suo lavoro O no Riguarda il suo padrone Ma lo farà bene Perché il Signore Lo sostiene C'è chi pensa Che vi siano giorni Più importanti Degli altri E c'è invece Chi li considera Tutti uguali Quel che importa E che ognuno Agisca Con piena convinzione Chi dà importanza A un giorno particolare Lo fa Per onorare Il Signore E chi mangia Qualsiasi cibo Lo fa Per onorare Il Signore Tant'è vero Che rende grazie A Dio Nessuno di noi Infatti Vive per se stesso O muore Per se stesso Perché Se viviamo Viviamo Per il Signore E se moriamo Moriamo Per il Signore E così Sia che viviamo Sia che moriamo Apparteniamo Al Signore Infatti Cristo è morto Ed è tornato in vita Per essere Il Signore Dei morti E dei vivi Ma tu Perché giudichi Tuo fratello E tu Perché disprezzi Tuo fratello Tutti Dovremmo presentarci Di fronte a Dio Per essere giudicati Da Lui Come è vero Che io vivo Dice il Signore Nella Bibbia Ognuno Benamente convinto Come ha detto Cristo è morto Dice alla pace Cosa Che possa Spingere Un fratello Ad agire Contro la sua fede La tua personale convinzione Conservala per te stesso Dinanzi a Dio Beato Colui Che non si sente Colpevole Nelle sue scelte Chi invece Mangia certi cibi Contro coscienza È condannato Perché non agisce Secondo la convinzione Che viene dalla fede E tutto quel che non viene Dalla fede È peccato Noi che siamo forti Nella fede Abbiamo il dovere Di non pensare Soltanto a noi stessi Ma di prendere Sinceramente a cuore Gli scrupoli Di chi è debole Nella fede Ciascuno di noi Cerche di fare Quello che piace Al prossimo Ed è Per il suo bene Per farlo Progredire Nella fede Anche Cristo Non ha cercato Quel che piaceva a lui Anzi Come dice la Bibbia Gli insulti Di chi ti insulta Mi sono caduti addosso Tutto quel che leggiamo Nella Bibbia È stato scritto Nel passato Per istruirci E tener viva La nostra speranza Con la costanza E l'incoraggiamento Che da essa ci vengono Dio Il quale Soltanto Può dare forza E incoraggiamento Vi dia La capacità Di vivere D'accordo Tra voi Come vuole Gesù Cristo Allora Allora È venuto Perché anche I non ebrei Anche Anche Isaia Dice Verrà il discendente Di Davide Sorgerà Per essere a capo Delle nazioni Gli uomini Spereranno in lui Dio Che da speranza Ricolmi di gioia E di pace Voi che credete E per mezzo Dello Spirito Santo Accresca Alla vostra speranza Sono fermamente convinto Fratelli miei Che voi avete Buone disposizioni Siete pieni Di conoscenze E quindi Siete capaci Di consigliarvi Gli uni Gli altri Tuttavia Alcune parti Della mia lettera Ho usato Parole forti Come per ricordarvi Quel che già conoscevate L'ho fatto A motivo Dell'incarico Che Dio Mi ha dato Quello di essere Ministro di Cristo Gesù Tra i non ebrei Annunziando La parola Di Dio Io agisco Come un sacerdote Perché faccio In modo Che i non ebrei Diventino Un'offerta Gradita A Dio Santificata Dallo Spirito Santo Perciò Unito a Cristo Posso essere Fiero Dell'opera Di Dio Quel che io Ho detto È che Cristo Si è servito Di me Per condurre I non ebrei A obbedire A Dio Lo ha fatto Con parole E con opere Con la potenza Di segni Miracolosi E con la forza Dello Spirito Così Ho parlato Di Cristo E ho portato A termine Il mio compito Partendo da Gerusalemme E poi In tutte le direzioni Sino ai confini Dell'Illiria Mi sono però Proposto Di portare La parola Di Dio Dove il nome Di Cristo Non era ancora Conosciuto Non volevo Costruire Su un fondamento Già posto Da altri E così Ho fatto Come dice La Bibbia Lo vedranno Coloro ai quali Non è stato Annunziato E capiranno Coloro Che non ne avevano Mai sentito Parlare Per questo motivo Più di una volta Mi è stato Impossibile Venire da voi Ma ora Che ho terminato La mia missione In questi luoghi Conto Di recarmi Da voi Quando passerò Per andare In Spagna Perché Già da molto Tempo Ho il vivo Desiderio Di conoscervi Spero Di vedervi Nel corso Del mio viaggio E di essere Aiutato Da voi A proseguirlo Prima però Voglio godere Un po' Della vostra Compagnia Ora vado A Gerusalemme Perché devo compiere Un servizio A favore Dei credenti Di quella città Le comunità Della Macedonia E della Caia Hanno deciso Di fare una colletta Per aiutare I poveri Della comunità Di Gerusalemme Hanno deciso così Anche perché Era un loro dovere Infatti I credenti ebrei Hanno dato Ai non ebrei I loro beni spirituali Ed è quindi giusto Che questi Li aiutino Nelle loro necessità Materiali Consegnata Ufficialmente Questa colletta E finito così Il mio compito Andrò in Spagna E passerò da voi A Roma So che verrò da voi Con la pienezza Della benedizione Di Cristo E ora fratelli Per il Signore Nostro Gesù Cristo E per l'amore E per l'amore Che viene Dallo Spirito Vi chiedo Di pregare Intensamente Dio per me Pregate Che io possa Sfuggire Agli increduli Della Giudea E che sia Bene accolto L'aiuto Che porto Ai credenti Di Gerusalemme Allora Se Dio Lo vuole Verrò da voi Pieno di gioia Per riposarmi In vostra compagnia La pace Che viene Da Dio Sia con Tutti voi Amen Vi raccomando La nostra sorella Febe Che lavora Al servizio Della chiesa Di Cennicre Accoglietela Nel nome del Signore Come è bene Che si faccia Tra credenti E aiutatela In qualsiasi cosa Abbia bisogno Di voi Anch'essa Ha aiutato Molta gente E anche me Salutate Prisca E Aquila Miei collaboratori Nel servizio Di Gesù Cristo Essi Hanno rischiato La loro vita Per salvare la mia Non io soltanto Ma anche tutte Le comunità Dei credenti Non ebrei Devono essere Loro grati Salutate anche La comunità Che si raduna In casa loro Salutate Il mio caro Amico Epeneto Che è stato Il primo cristiano Nella provincia Dell'Asia Salutate Maria Che ha lavorato Molto per voi Salutate Andronico E Giunia Miei parenti Che sono stati In prigione Con me Sono degli apostoli Insigni E sono diventati Cristiani Prima di me Salutate Ampliato Che mi è caro Nel Signore Salutate Urbano Nostro compagno Al servizio Di Cristo E il mio caro Stacchi Salutate Apelle Che è stato Messo alla prova Per la sua fede Per la sua fede In Cristo Salutate La famiglia Di Aristobulo Salutate Il mio parente Erodioni Salutate Quelli Della casa Di Narciso Che credono Nel Signore Salutate Trifena E Trifosa Che lavorano Per il Signore E la mia cara Perside Che pure Ha molto Lavorato Per lui Salutate Rufo Degno Di lode Nel Signore E sua madre Che è una madre Anche per me Salutate Asincrito Flegonte Erme Patroba Erma E i fratelli Che sono con loro Salutate Filologo E Giulia Nereo E sua sorella Olimpas E tutti I credenti Che sono con loro Salutatevi Tra di voi Con un fraterno Abbraccio Tutte le chiese Di Cristo Vi salutano Io vi esorto Fratelli A tenere d'occhio Quelli che creano Divisioni E ostacoli Tra i credenti Opponendosi All'insegnamento Che avete ricevuto State lontani Da loro Perché essi Non servono Cristo Nostro Signore Ma il loro Proprio Ventre Con Con belle parole Con discorsi Affascinanti Ingannano Il cuore Delle persone Semplici È vero Che la vostra Ovbedienza È nota a tutti E io quindi Me ne rallegro Ma voglio Che voi Siate saggi Per fare il bene E siate puri Per evitare il male Dio Che dà la pace Schiaccerà presto Satana Sotto i vostri piedi La grazia Di Gesù Nostro Signore Sia con voi Vi saluta Timoteo Mio collaboratore E vi salutano Lucio Giasone E Sossipatro Miei parenti Anch'io Terzo Che ho scritto Questa lettera Aggiungo I miei saluti Nel Signore Vi saluta Gaio Che mi ospita In casa sua Si raduna Tutta la comunità Vi saluta Erasto Tesoriere della città E il fratello quarto L'odiamo Dio Egli Può fortificarvi Nella fede Secondo la parola Di Gesù Cristo Che io vi ho annunziato In questo messaggio Dio Rivela Quel progetto Segreto Che per lunghissimo tempo Aveva tenuto Nascosto Ma ora Per volontà Di Dio Questo segreto È stato rivelato Con l'aiuto Di quello Che hanno detto I profeti Ed è stato fatto Conoscere A tutti i popoli Perché giungano All'ubbidienza Della fede A Dio Che solo E sapiente A Lui Per mezzo Di Gesù Cristo Sia La gloria Per sempre Amen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti